salve e bentornati decima lezione sul candy wrapper la volta scorsa l'argomento è stato la cucitura degli anelli zig zag questa volta tratterò invece la cucitura degli anelli lineari e al tempo stesso introdurrò la cucitura testa a testa ho preparato due anelli lineari identici hanno lo stesso numero di tessere 24 e tutte misurano 6 per 13 centimetri per rendere chiari passaggi userò tessere e filo di colori diversi mi vedrete usare del filo di lana ma normalmente per cucire uso filo di nylon rispetto agli anelli zig zag qui non basta unire le due parti dovremo anche occuparci delle disgiunzioni se volete saperne di più sulle disgiunzioni vi consiglio di guardare la lezione numero 6 dedicata alle righe lineari prima di partire con ago e filo bisogna prestare attenzione alla sovrapposizione degli anelli deve essere fatta in modo tale da evitare gli allenamenti la prima cosa da fare è stabilire approssimativamente la lunghezza del filo per completare la cucitura esterna a grandi linee vi consiglio una misura pari a tre volte il diametro esterno più 20 centimetri per annodare se con gli anelli zig zag è possibile utilizzare la cucitura di piatto con gli anelli lineari invece siamo costretti a passare alla cucitura testa a testa come già anticipato significa che l'ago dovrà passare anche nei tunnel delle tessere e non solo più nelle tasche vediamo i passaggi principali ho già fissato con una clip l'estremità del filo ad un anello avvicino i due pezzi accertandomi innanzitutto che le loro disgiunzioni non siano allineate parto dall'anello inferiore inserisco l'ago nella tasca della tessera bianca esco ed entro nella tessera blu dell'anello superiore passando in un tunnel vado fuori e rientro di nuovo nella stessa tessera bianca di prima ogni punto tra due tessere si completa in tre passaggi il filo va tirato per bene ogni volta che un punto viene completato ora passo alle due tessere successive porto l'ago nella tasca della tessera blu superiore esco e vado sotto per passare nel tunnel della tessera bianca infine concludo il punto ripassando di nuovo nella tasca della tessera blu tiro il filo così da compattare e rendere uniforme tutta la cucitura vado avanti in questo modo fino a quando non arrivo al filo di inizio cucitura le due estremità ora si trovano nello stesso punto e dunque si possono annodare ma per rendere il filo meno visibile conviene portarlo all'interno passando da una fessura tra le tessere quindi faccio un paio di nodi con il filo di lana ne bastano due ne servono tre se uso il nylon completo la cucitura nascondendo il filo che rimane inserisco entrambe le estremità nella cruna del lago e lo faccio passare nel tunnel di una tessera bianca una volta portato fuori taglio il filo con le forbici ed ecco fatto i due anelli sono stati cuciti tra loro il filo all'esterno non si vedrà se usate il nylon naturalmente il risultato migliorerà ancora di più unendo i due anelli con la cucitura alcune disgiunzioni sono state sistemate ma ne restano altre ancora di cui occuparsi quante e quali dipenderà ovviamente dal progetto la via più semplice da seguire consiste nell'eseguire una cucitura completamente indipendente che percorrendo l'intero perimetro esterno di un anello chiuda tutte le disgiunzioni vediamo brevemente come fare attraverso una sequenza di immagini vedete in viola la cucitura tra gli anelli che sta per conto suo prendo un nuovo filo e con l'ago entro orizzontalmente in una tasca esco ed entro verticalmente nella tasca della tessera successiva esco ed entro sempre verticalmente nel tunnel della tessera precedente esco e tiro il filo con questi passaggi ho chiuso la disgiunzione ora bisogna avanzare orizzontalmente di due tessere per arrivare alla prossima disgiunzione passando rispettivamente in un tunnel e in una tasca da qui in poi non si fa altro che ripetere i passaggi appena visti si prosegue fino a quando le due estremità del filo si incontrano quindi si annoda e poi si nasconde il filo rimanente per quanto riguarda la cucitura interna degli anelli se farlo o meno vale quanto si è già detto nella lezione precedente se gli anelli sono di piccole dimensioni non serve se invece stiamo realizzando oggetti di grande dimensione interessati da sollecitazioni o pesi importanti allora probabilmente va presa in considerazione nel prossimo tutorial ci sarà un progetto si tratterà ovviamente di qualcosa di molto semplice che mette assieme quanto abbiamo visto fino ad ora nella teoria più qualcosa di nuovo vi saluto e ci vediamo al prossimo video